Dopo la tregua natalizia il cattivo tempo è tornato a colpire il salernitano. Già dalla notte forte temporali stanno falcidiando il capoluogo in intera provincia. Naturalmente con il cattivo tempo aumentano le criticità e così iniziano a essere segnalati i primi smottamenti lungo le varie arterie provinciali. Allerta meteo che non intacca i preparativi per il capodanno salernitano che si appressa a registrare numeri da record. Sold out al Berghie e B&B già da diverse settimane, record di presenze nel comune capoluogo come ormai piacevolissima abitudine. Il concerto in piazza Mendola di Fiorella Mannoia, un formidabile attrattore ma non è soltanto l'elegante e raffinata interprete del pop italiano ad aver calamitato attenzioni e interessi da ogni angolo d'Italia. Il brand lucida artista funziona e se per i salernitani la Kermess Narnizia è diventata un'abitudine fuori dai confini cittadini l'evento tira ancora tantissimo. Prova nel pienone che da venerdì è previsto in città dove intanto le prove generali sono andate di lusso. L'ordinanza antifracasso che pure ha suscitato non poche polemiche ha funzionato e agli archivi è andato un Natale sobrio ma al tempo stesso movimentato. Evitati gli eccessi, salvaguardata la serenità collettiva, ora gli sforzi sono tutti orientati verso la notte di San Silvestro, la più calda e partecipata come da tradizione. Si attendono con ansia le nuove disposizioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in tema di misure speciali, ma va da sé che sarà rispettato il copione già andato in scena il 24 e il 25. Intanto, ritornando al maltempo, nelle prossime ore, secondo quanto previsto dalla Protezione Civile Regionale, ci potrebbero essere forti mareggiate dovute all'intervento del vento. La situazione dovrebbe migliorare nel weekend, ma a questo punto sembra solo un dettaglio.